Ehi Henry, se vedessi cosa c'è qui, c'è un tale a cui hanno rotto le balle con una calibro 38, buffa. Non ti fa ridere? Dormito male, eh? Scopi troppo. Tu che ne dici? Teppisti? Droga maltagliata? Una cosa è certa, la scopata gli è costata carissima. Ehi, non dirmi che questa schifezza ti commuove, non è da Callaghan. O dimmi che non è così. No, questa schifezza non mi disturba. Sparatorie, coltellate, pestaggi, povere vecchie massacrate e derubate dalla pensione, insegnanti sbattuti giù dal sesto piano perché pocciano i ragazzi. No, tutto questo non mi disturba affatto. Dai, Henry, non ti scaldare. Non mi disturba per niente sguazzare nella melma della città, travolto dalle ondate sempre più fetide della corruzione, apatia, burocrazia. No, tutto questo non mi disturba. Sai che cosa mi disturba? Che cosa? Sai che cosa mi rivolta veramente lo stomaco? Che cosa? Vederti ingozzare avidamente quel salsicciotto. Nessuno, ripeto, nessuno ci mette il ketchup, ci vuole la senape. Ma perché sei così incavolato? Perché ho le mani legate, amico mio, mentre questo sudicio mondo ci sta crollando addosso. Ispettore Callaghan, il tenente Donnelli ordina di... la prega di venire nell'ufficio del capo senza perdere tempo. Sublime. Grazie.